...di decoro urbano, noi prendiamo in giro i cittadini perché facciamo domande sul perché. Pensabile perché dare il nome entro 5 minuti ad una sala consigliare era molto... Allora, se avete qualcos'altro da aggiungere... Sì, sì, io volevo aggiungere un elemento di colore, nel senso per la vicenda poi è stata molto surreale perché nel consiglio in cui si discute... ...la trasparenza, all'onestà, sono questi i valori che noi dobbiamo portare avanti ma dobbiamo essere milioni, dobbiamo essere in tanti. Io sono in Commissione Finanze e ogni giorno mi scontro con testi di legge fatti ad arte per ingannarci perché le vere risorse, quelle produttive, loro le conservano per loro e questo sistema le ha incastrate in modo da poter alimentare sempre la scorruzione che ha le famiglie, le imprese, le piccole imprese in difficoltà che devono chiudere per il carico fiscale eccessivo, per far tornare l'Italia competitiva a livello europeo perché quest'euro è stata una gogna, praticamente è una gogna, è una museruola per noi perché ha annientato, ha annientato le nostre produzioni. Noi compriamo tutto dall'estero e siamo diventati una scatola vuota quando invece il nostro paese è pieno di artigianato, di fantasia, di arte, di cultura noi non abbiamo bisogno di nulla, noi siamo autosufficienti, dobbiamo solo svegliarci ma ci svegliamo? Rispondetemi voi, ci svegliamo? Sì! Siamo gli italiani di sempre, siamo gli italiani del rinascimento quelli che hanno inventato le migliori invenzioni in tutti i campi nella scienza, nella medicina, nell'arte e comunque voglio lanciare un messaggio, toglie purtroppo ancora oggi toglie tutti i diritti e poi va dal cittadino privo dei suoi diritti e dice senza di me tu non sei nessuno, quindi devi andare lì a chiedergli il favore noi invece abbiamo esattamente ribaltato, senza di voi noi non siamo nessuno quindi sempre di più per darci la forza grazie, grazie Carla Ruocco se volete farmi delle domande se volete delle domande senza microfono la commissione affari sociali di cui io faccio parte si vede ha presentato la proposta di legge per questa legislatura in materia di regolazione e regolamentazione diciamolo un attimo anche un pochino il divieto per alcuni aspetti del gioco d'azzardo e niente, questo è un avvertimento che mi è arrivato perché forse no, sto scherzando, nessun avvertimento però sicuramente voi sapete, non so se lo sapete in commissione affari sociali alla Camera dei Deputati ci si occupa di sanità allora qui a Roma e nel Lazio abbiamo fatto dei tavoli di studio, di approfondimento che sono stati veramente incredibili per la quantità di attori e operatori che nel Lazio hanno partecipato a portare le loro denunce e quello che hanno scoperto nella filiera tra ambulatori, consultori, ospedali quindi stiamo parlando di un sistema che comunque è profondamente degradato è profondamente marcio e ovviamente queste sono frutto di politiche che da un lato ti vogliono far credere che finanziano il pubblico di fatto sperperano nel pubblico e mettono al loro interno come i direttori sanitari e i direttori, scusate, i direttori generali e i direttori sanitari e amministrativi che sono di loro stretta nomina la regione del privato accreditato è famosa perché funziona però pochi sanno che il 70% delle strutture ospedaliere ambulatoriali nel Lazio sono private perché nel frattempo abbiamo i nomi che voi tutti conoscete che si sono occupati da anni di colludere col sistema politico per poter aprire continuamente degli ambulatori, degli ospedali privati e poter giustificare continuamente il fatto che il privato è bello, funziona noi ci abbiamo provato a far funzionare il pubblico ma la colpa è dei cittadini ma certo se ci mettiamo nel pubblico cittadini che non hanno il senso del bene comune ma ci mettiamo i raccomandati, chi non gliene frega niente, gli amici degli amici non funzionerà mai il pubblico perché questi staranno lì come tutti quelli alla Camera dei Deputati per farsi gli affari loro, per creare delle clientele, dei bacini dei gruppi di autoaiuto di denaro pubblico, di prebende allo stesso modo stiamo parlando di 87 miliardi che è il fatturato del gioco d'azzardo in Italia di cui lo Stato incassa 8 miliardi 8 miliardi che cosa servono? 8 miliardi adesso abbiamo creato la patologia perché lo Stato siamo passati da un sistema liberista a un sistema in cui io credo che sia giusto se qualcuno si vuole fare una partitina di gioco d'azzardo lasciargliela fare ma siamo degradati nel fatto che lo Stato è il primo che pubblicizza che ti fa dei contratti decennali in cui devi reinvestire le tue entrate in pubblicità che a sua volta aumentano la voglia di giocare nel gioco d'azzardo perché a un certo punto non ci sono possibilità non ci sono possibilità